su radio italia solo musica italiana seduti sul palco del reward music place con king marrakesh ciao a tutti che piacere è la prima volta che ci incontriamo sono molto felice perché io personalmente ti seguo da anni ed è la prima volta col piacere di vederti dal vivo di parlare con te innanzitutto ci fa piacere averti qui a radio italia solo musica italiana a parlare di questo nuovo album che un po diciamo il naturale se non sbaglio la naturale evoluzione di persona giusto sì una sorta di seguito spirituale con un concept diverso ma legato più che altro a un nuovo questa parte nuova del percorso che è iniziato con persona nella mia carriera esatto allora noi loro gli altri praticamente non ha fatto in tempo ad uscire che subito in vetta le classifiche 12 brani nei primi 12 posti disco d'oro immediatamente la domanda magari è retorica te lo aspettavi però effettivamente è veramente un traguardo incredibile perché in questi anni in cui sei tornato alla grande hai soltanto che ricevuto grande affetto e meritato anche da parte del pubblico grazie innanzitutto no non era non era scontato non era previsto perché poi è impossibile ogni volta capire dove arriverà l'album cioè tu puoi cercare di dare il massimo e sperare che poi vada bene però venivamo appunto da una pressa psicologica delle di persona che era stato un successone che a volte quelle cose diventano anche un po irripetibili nel senso è raro no infilarne due per cui pensavamo vabbè l'importante aver fatto un bel disco e confermare che siamo degli artisti invece effettivamente lancio è stato ancora più sballorditivo di quanto fu persona in questa prima fase per cui incredibile ora ne parlavamo fuori onda prima persona ci è piaciuto da morire o questo forse anche di più cioè non ce l'aspettavamo nemmeno noi addetti diciamo era la pressione era tanta però sì poi quando sei così dentro una cosa farla perché poi io sono uno che si chiude proprio studio a lavorare non hai bene la percezione di quello che stai facendo allora puoi sapere che ci hai messo tutto te stesso che quindi il disco non è brutto ecco però poi non puoi sapere là fuori come cioè in che periodo è la gente uno fa una scommessa pensando quello che provo io lo provano tutti però non è detto che che la zecchia con quella scommessa però devo dire la risposta è arrivata visto il successo che sta avendo quest album sono 14 le tracce c'è anche del cantato sì ci sono io mi ero già un po buttato anche nel disco scorso e ogni tanto in episodi della mia carriera ma in realtà una cosa che avrei sempre voluto fare e qui mi sono spinto in pezzi che sono completamente cantati no o anche dei ritornelli insomma sì sì ci sono c'è tanto rap c'è tanto cantato in realtà è equilibrato da quel punto di vista tu sei il king del rap quindi lo sappiamo quindi non può mancare naturalmente testi meravigliosi devo dire la verità ci piacciono ci piacciono molto ci piacciono molto le copertine sono quante sono le copertine di questo disco le copertine questa è quella diciamo ufficiale che poi è quella che sul cd e poi sui vinili invece ne abbiamo fatte tre che poi erano per portare avanti questo concept di noi loro gli altri quindi questa è la copertina noi dai toni più caldi e cioè la mia famiglia e le persone importanti per me soprattutto nel momento in cui scrivevo il disco poi ce n'è un'altra che si chiama loro che dove ci sono i miei discografici tutto l'establishment il mio commercialista l'avvocato esatto e infatti è molto più più fredda come foto e poi c'è gli altri scusa rido per il commercialista il commercialista nel disco è il mio commercialista è la persona di cui non ha più terrore quando ti arriva la telefona del commercialista tu lo piazzi praticamente sulla copertina era davvero il momento in cui stavo rinnovando il contratto quindi c'erano delle persone che e poi la terza che invece sono dentro una massa di persone è girato dall'altra parte ed è bianco e nero perché è un po appunto il grigio dell'indifferenza no? a radio italia solo musica italiana parliamo con il king con marrakesh allora questa crazy love singolo che ha aperto il nuovo album spiegaci proprio la genesi della canzone ma anche il video per chi l'ha seguito su radio italia solo musica italiana tv allora dunque la canzone è una delle prime che ho scritto del disco e anzi l'avevo scritta prima che io faccio sempre una session finale in cui mi chiudo a terminare il disco ma di cui faccio proprio l'ottanta 90 per cento invece questo pezzo l'avevo fatto quasi un anno prima durante la pandemia era nato in sicilia mi ricordo e quindi niente è una canzone che parla del mio rapporto con ero della passione che avevamo e niente quando si è trattato di fare il videoclip pensato non posso fare un videoclip con un'altra ragazza non ha senso certo e quindi ho chiesto a lei di fare comunque il video e poi ci è sembrato anche bello l'idea di alla fine poi mi è venuta questa idea di farlo finire così no in questa maniera strana in cui alla fine ci uccidiamo però era era bello per me perché in quel momento poi c'erano mille gossip gente che parlava abbiamo detto guarda diamo il nostro modo spieghiamo noi questa cosa senza fare i comunicati e roba così ma con una cosa artistica alla fine abbiamo fatto sto video che in effetti è emozionante almeno per me molto è molto bello e il brano è bellissimo e gira benissimo in radio e ci sono anche tanti campioni in questo album molto belli c'è il pagliaccio e dove c'è il campione di pavarotti c'è il campione di angeli di vasco so che ti hanno fatto anche i complimenti si è scritto lui una cosa è un momento uno degli highlight della mia vita sì no abbiamo voluto io io amo il campionamento da sempre trovo che sia una delle cose più belle che l'ipop ha portato alla modernità perché poi il campionamento permette di unire cose diversissime reinterpretare dei brani portarli da un'altra parte soprattutto crea un filo tra il passato e il presente no quindi culturalmente è interessante perché recuperi quello che il patrimonio italiano le grandi canzoni le porti a un pubblico che magari è troppo giovane non le ha mai interiorizzate io poi quando ero piccolo ascoltavo i gruppi pop e poi andavo a vedere che cosa avevano campionato per esempio i wutan clan è leggendario la sequenza di campionamenti anni 70 e un sacco di gente ha scoperto quei pezzi io per primo attraverso il rap quindi secondo me è una cosa che si usa troppo poco in italia che spero che gli italiani capiscano sempre di più perché è difficile campionare gli italiani ma molti ti seguiranno vedrai ne sappiamo ne siamo convinti tra l'altro il comandante ha scritto proprio un compliment cioè ti ha ringraziato per la cosa bellissima ha fatto un post sono una delle cose più fighe che sia riuscire sia che mi abbia dato il permesso di farlo e riuscire a portare a casa questo pezzo a cui l'ho legatissimo e si a vedere questo riconoscimento posso una domanda perché prima hai detto che da ragazzino ascoltavi insomma determinate cose ho letto qualche parte che tu hai iniziato a ascoltare musica qui metallica con gli 883 cioè sì allora no io ero un metallaro gli 883 me lo chiederanno per sempre sarà l'aglio 83 io dissi in un'intervista che gli 883 hanno ricoperto un po il ruolo del rap quando il rap non c'era perché facevano una musica molto giovanile in cui uno è un ragazzo molto giovane poteva capire della cioè poteva ritrovarsi e uscire dalle canzoni d'amore che quando hai 12 anni 13 anni ti non le vuoi sentire no mentre invece il metal sì io prima ero un rocchettaro metallaro convinto poi il genere è andato un po scemando e cominciato a ascoltare l'hip hop marrakesha radio italia solo musica italiana ma io vorrei sapere da te fabio se se mi rendo conto che una domanda un po difficile complicato a cui rispondere è sempre un po borderline una canzone a cui tu tieni c'è più delle altre all'interno di questo album allora ti dico è sempre difficile sì soprattutto anche col disco scorso facevo fatica a trovare un mio pezzo preferito perché ho lavorato veramente organicamente un po tutto forse ti direi Laura Donorem è quella che mi non so mi emoziona di più forse quella ora l'ascolto allora con il tuo punto di vista cioè con questa cosa che mi hai detto sì sì capito sapendo che è la tua preferita in qualche modo mi piace molto quando dici in loro sono un patriota senza patria quella è anche una bellissima frase che dice tante cose e parliamo anche dei featuring perché ci sono degli ospiti nel tuo album alcuni sì non molti ho voluto fare un disco con un po' in controtendenza rispetto a quello che è che la roba di unirsi adesso e fare tutti questi album corali sono solo tre c'è Gue con cui collaboro da sempre un fratello ed è praticamente l'unico rapper ospite poi c'è Blanco che è la sensation e anche secondo me il ragazzo più più figo che è uscito quest'anno e Calcutta che Calcutta che va bene non ha bisogno di presentazione che diciamo che il cantautore mio forse preferito alcuni sono nascosti però alcuni sono nascosti tipo sì perché non sono veri se vuoi tenerli nascosti puoi anche no 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 ma non sono veri e propri featuring sono arricchimenti no dal disco e quindi c'è la stessa elodie è quella che canta io l'ho riconosciuta ma davvero è possibile te lo giuro sì te lo giuro grande poi c'è Mahmood sempre in quel pezzo che si sente parecchio c'è Salmo in cosplayer che fa delle doppie voci degli sporchi c'è John Thiele in due tracce c'è Edonico e il Granato che è un pezzo che si chiama giorni stupidi che abbiamo campionato da loro insomma sì ci sono ci sono anche alcuni non accreditati tipo c'è Elisa anche dei coretti c'è roba così cioè ci sono cose che magari ci trovavamo a fare musica insieme quindi vabbè bello così voi già collaborato con Elisa vi trovate spesso a confrontarvi a confrontare i vostri lavori o semplicemente ci sentiamo spesso e siamo tutte e due animali notturni no lei guarda no è un animale notturno di uno non so come fa perché è il dono dell'ubiquità per questo esatto è una madre attentissima tiene la casa lavora con me è fortissima però ci scriviamo magari di notte ogni tanto ci chiediamo consigli lei mi manda qualcosa in anteprima io avevo mandato qualcosa del disco a lei un anno fa penso addirittura bello prossimo anno 2022 ci sarà un tour sì scusa se tocco ferro guarda tutti lo fanno tutti i tuoi colleghi ormai chi fa questo mestiere ha paura noi diciamo ci sarà perché ormai basta siamo confidi persone tour 2022 che include ovviamente il tour precedente e a cui abbiamo aggiunto delle date nuove parte questa primavera ormai non mi ricordo più le date ma mi pare da aprile o maggio forse da maggio a Jesolo assolutamente sì esatto e va per lo più in primavera e poi abbiamo cinque date perché abbiamo aggiunto un'altra al forum del Sago eh sì perché sono già sette sold out ha dovuto per forza raddoppiare altrimenti come facevano accontentarli tutti sì sì no non vedo l'ora di andare a suonare ho fatto una voglia incredibile perché sono veramente quattro cinque anni non so ci crediamo senti visto il Natale si avvicina ormai che ti chiediamo cosa farai a Natale vado via vai via non vedo l'ora di andare via per Natale a me mi tratta di stare tipo il Grinch e detto questo no sono anche abbastanza stanco il disco è stato un parto eh il post parto eh è divertente perché vedi il casino che si genera però è anche quello una un'altra trottola e quindi finita questo questa promo parto per altri libri Fabio noi ti salutiamo è sempre un grande piacere averti qui speriamo di averti sul palco di Radio Italia Live chissà al più presto questa un po' a casa tua quindi sentiti libero assolutamente complimenti ancora grazie ciao